Il Centro Restauro La Venaria Reale si è sempre occupata della conservazione e della tutela del patrimonio storico-artistico e decorativo, non soltanto locale, non soltanto nazionale, ma anche internazionale. Tra gli ultimi nati c'è il Laboratorio di Carte e Fotografie, di cui la responsabile e coordinatrice Ambra D'Aleo e grazie a un concordato avvenuto con la Biblioteca di Palazzo Cisterna di Turino si è avuto la fortuna di mettere mano alla conservazione e al restauro l'intervento di più di 20 carte e fotografie umide e sec, di pregiatissimo livello e qualità artistica di straordinario interesse, che grazie al laboratorio verranno completamente recuperati. Un intervento che vedrà protagonista la didattica, in modo tale che gli iscritti e le generazioni recenti di restauratori possano confrontarsi con materiale non necessariamente così conosciuto, come l'importanza invece di delle carte dipinte e delle fotografie storiche.